Secondo me non si parla mai abbastanza di USB-C e Thunderbolt e non lo dico con ironia, me ne accorgo perché ancora oggi ricevo spesso delle domande magari su improbabili adattatori tra vecchie e nuove generazioni che mi fanno capire quanta poca chiarezza ci sia sull'argomento. Non a caso ho fatto un video qualche tempo fa e non mi stupisce neanche più di tanto perché già l'idea di aver utilizzato lo stesso formato di porta per due standard, Thunderbolt e USB-C, secondo me non è stata proprio indovinata, insomma, alla fine dei conti ha creato ancora più confusione. Poi per fortuna oggi con la quarta generazione sia di Thunderbolt che di USB-C si va verso una unificazione, quindi le cose andranno a schiarirsi, ecco, se vogliamo. Però di base la USB-C ha portato diversi cambiamenti perché non solo il formato di porta è diverso ma insieme a questa sono arrivati anche le nuove versioni di USB, dal punto di vista proprio della codifica dello standard, che hanno ampliato le funzionalità, quindi non si parla soltanto di una maggiore banda, ma anche di una capacità di ricarica più elevata, della possibilità di veicolare un flusso video, display port, sempre tutto all'interno dello stesso cavo e questo ha modificato anche la percezione che avevamo, ad esempio, degli hub. Un tempo un hub, quando c'era solo la connessione nel formato USB-A, insomma, era un duplicatore di porte, che poi in realtà era più un frazionatore, però diciamo tu occupavi una porta USB-A sul computer e potevi averne, non so, 4 o 7 e finiva lì. Con la USB-C invece la cosa è diversa perché puoi sì frazionare ma tante cose differenti, quindi magari puoi avere un gengillo del genere, anche piuttosto economico, che ti dà una serie di cose che prima erano impensabili, quindi un solo cavo USB-C collegato al computer e ti può dare, non so, magari un paio di porte USB-A con 10 Gbps, no, più probabilmente 5 Gbps, ti può dare un'uscita video, display port o HDMI a seconda delle preferenze, alcune volte c'è anche una connessione Ethernet e poi ci può essere magari la USB-C che però spesso viene utilizzata solo per la ricarica, per la power delivery, perché molte delle sue altre funzionalità appunto sono state indirizzate su altre connessioni, perché poi alla fine è questo, dovete pensare all'Hub come una specie di insieme di adattatori che però sono tutti insieme e occupano una singola porta sul computer, però di base è quella cosa lì insomma. Però vedete si sono molto avvicinati al concetto di docking station, quindi quella cosa che ti dà la possibilità di utilizzare anche un portatile sulla scrivania come fosse un computer fisso, dandoti tutte le porte di connessione. Io continuo a considerare Hub quelli portatili in sostanza, quelli che non richiedono un'alimentazione dedicata, piccolini eccetera, perché comunque sono cambiate le potenzialità ma il succo di fondo no. Mentre considero dock o docking station quelli che effettivamente hanno bisogno di un'alimentazione dedicata e che sono configurati sia per dimensione, forma e peso per essere più utilizzati su una postazione fissa, sulla scrivania. Ora come docking station nei circa sei anni, set forse ormai che abbiamo questo tipo di connessioni con i Mac, ne ho provate tantissime. L'ultima però in ordine temporale è quella con cui mi sono trovato meglio, ed è la Caldigit TS3 Pro che ho ancora sulla mia scrivania qui dietro. L'ho utilizzata con l'iMac, l'ho utilizzata con, anzi la utilizzo ancora adesso con il MacBook Pro da 14 pollici ed è la migliore secondo me dopo averla utilizzata per un bel po' perché rispetto alle altre, comunque tutte più o meno valide, qui ho trovato intanto più porte, ma anche una maggiore stabilità delle stesse e questo vi garantisco che è molto molto utile. Infatti io utilizzo due docking station, ma come prima ho quella di Caldigit perché mi garantisco che le cose che stanno lì comunque funzionano sempre. Sulle altre ogni tanto c'è una disconnessione, qualche cosa che può capitare, su questa a me non è successo. Comunque arriva la nuova docking station di Caldigit, ovvero la TS4 che ho avuto la possibilità di provare. Ora, questa qui ovviamente si migliora la precedente, il 4 vi fa capire che supporta la nuova tecnologia Thunderbolt 4 USB-C4, ma non fa solo questo, mi ha stupito in particolare il fatto che qui si sia andati a realizzare quella che Caldigit chiama compatibilità universale, che mi sembrava una dichiarazione un pelino esagerata all'inizio, e invece no, perché oltre alle cose che loro hanno messo in elenco ho provato anche altre cose e hanno funzionato praticamente tutte. Ma arriviamoci con ordine perché intanto vediamo cosa cambia, anzi cosa non cambia rispetto alla precedente, perché la struttura è molto molto simile, è solo un pelino più alta, però è sostanzialmente la stessa, molto robusta in metallo e ha questo formato a scatolotto che a me inizialmente, ve lo dico, non piaceva affatto, perché ero abituato alle docking station piatte, insomma che ce ne sono tante così, mi sembravano più carine dal punto di vista estetico e magari anche più facilmente collocabili, in realtà non è così, questo formato è molto più indovinato per due motivi sostanzialmente, intanto perché comunque questa altezza in più non dà mai fastidio dove lo vai a inserire, ma questo ha consentito di farlo molto più stretto e tra l'altro si può usare anche in verticale. Quando lo usate in verticale potete togliere questi gommini che tra l'altro sono in dotazione, non sono neanche adesivi, comodissimo perché si incassa, potete toglierli e metterli come più vi aggrada. Comunque questo formato, vi ripeto, secondo me è molto molto interessante. Ora ha il suo bel brick di alimentazione come il precedente, ma andiamo a vedere le porte perché sono tante, ce ne sono 18 addirittura. Per esempio nella zona frontale adesso non abbiamo solo il lettore di SD, ma abbiamo anche il lettore di microSD, sono entrambi OHS-2, funzionano piuttosto bene e vi dico per me questa è stata una cosa comodissima perché lo utilizzo spesso, il formato microSD per, non so, le console, i droni, per gli smartphone, insomma comunque molto molto utile per me. Poi hanno inserito questa porta audio che sostituisce le precedenti due separate di uscita e ingresso ed è molto utile perché intanto l'uscita e ingresso rimangono nella zona posteriore, ora lo vediamo, ma soprattutto qui è utile avere la possibilità di connettere quelle cuffie che hanno anche i microfoni col connettore TRRS, spero di aver detto il giusto numero di R, che effettivamente con un solo cavo ti fanno gestire entrambe le cose, molto più pratico per una videochiamata, per cose di questo tipo. Poi abbiamo due porte USB-C, prima era una sola, più veloci perché arrivano a 10 gigabit per secondo, come anche la porta USB-A qui adesso è a 10 gigabit per secondo ed è ancora molto interessante il fatto che ci sia la porta di sinistra con power delivery di 20 Watt. Non sono tantissimi, però è più, insomma, dei 7,5 Watt che ci sono sulle altre e soprattutto è interessante perché questa porta funziona anche se non c'è collegato il computer host, quindi anche quando avete solo, diciamo, l'attrezzatura sulla scrivania senza il portatile, se supponiamo sia quello il vostro computer, il vostro centro di partenza, comunque la ricarica funziona perché lo dà direttamente l'alimentatore del del TS4, per cui molto utile perché effettivamente in qualsiasi momento potete caricare qualsiasi dispositivo. Ora andiamo sul retro, qui cerchiamo di andare rapidamente perché c'è davvero tanta tanta roba, ma iniziamo dalla Ethernet che è da 2,5 gigabit, io non posso usarla, non ho la strumentazione adatta, però è retrocompatibile con quella normale da 1 gigabit, quindi si va tranquillamente. Poi abbiamo 4 USB-A, anche qui si passa a 10 gigabit per secondo, tutte e quattro, se non erro, sono da 7,5 Watt come potenza di alimentazione, uscita audio e ingresso audio separati e poi è molto importante la DisplayPort che passa adesso alla versione 1.4, il che significa che può supportare schermi fino all'8K, comunque ovviamente anche il 4K con maggiori colori, maggiore refresh rate, insomma tanti standard in più con questa nuova generazione, prima avevamo la 1.2, abbiamo una USB-C che può essere utilizzata in questo caso solo per i dati, questa qui, sempre fino a 10 gigabit per secondo, abbiamo la Thunderbolt 4 da utilizzare per il computer che colleghiamo come computer host, che può essere un portatile ma non necessariamente, funziona benissimo anche con un iMac, anche con quelli precedenti ad Apple Silicon, come funziona con il Mac Studio per dire, e poi ci sono due Thunderbolt 4 USB-C 4 in downstream, quindi per supportare il Daisy Chain, il che significa che qui potete collegare, per dire, un altro dock volendo, oppure un monitor che è Thunderbolt ed ha anche il suo hub all'interno di porte, quindi veramente tantissima, tantissima flessibilità, sono 18 porte, veramente tante tante tante, la media di solito nel docking station è di 11-10 insomma, quindi qui si fa veramente un salto importante. Ma soprattutto vi parlavo di questa compatibilità universale che c'è, c'è nella praticità dei fatti, perché qui potete collegare di tutto, non so, un Chromebook con una scalcinata USB-C, qui comunque potete gestire ancora i vostri bei dati sulle USB-A e l'uscita video con la DisplayPort. Ora, è chiaro che tutte queste porte si poggiano sul fatto che ci sia a monte un computer con una Thunderbolt 4. Se avete un computer come quello che vi ho descritto, io ci ho collegato un Chromebook che costa 150€, un 11 pollici scalcinato veramente, ha una USB-C credo 3.2, non lo so, una cosa del genere, funziona tutto quanto, ma ovviamente funzionano le cose che può gestire quella porta, quella USB-C. Per fare un esempio, se voi collegate un computer di questo tipo non potete utilizzare l'uscita video via Thunderbolt per dire, perché non è una Thunderbolt di base quella lì, per cui non può avere una Thunderbolt in uscita, però le USB-A funzionano e funziona anche la DisplayPort perché quella è gestita anche dalla USB-C. Lo so, è un po' macchinoso questo discorso, però sappiate che effettivamente funziona con tutto. Ho provato con il mio computer, il mio portatile Windows, che è basato su AMD Ryzen, anche lui non ha Thunderbolt, ha USB-C, in questo caso sono sicuro che è una 3.2 generazione 2 e funziona tutto, col precedente non lo potevo fare. Ho provato addirittura con la Steam Deck, che alla fine è un computer con Linux, con l'uscita USB che veicola anche il video e funziona, quindi potete collegare il vostro monitor alla DisplayPort e lui la gestisce senza problemi. Ho provato con uno smartphone Android, ho provato con l'iPad, qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa che abbia quel formato che gestisca, ovviamente poi di per sé anche l'uscita video, eccetera, eccetera, lui può utilizzarla. Questa cosa del TS4 per me è fantastica perché è veramente l'unico dock che uno può considerare, perché tu compri questo, lo metti sulla tua scrivania con il tuo monitor collegato alla DisplayPort, che è la versione più compatibile con qualsiasi tipo di USB-C Thunderbolt, ci colleghi i tuoi dischi, ci colleghi, non so, delle casse, quello che vuoi, ti costruisci una postazione che ha una versatilità incredibile perché qualsiasi aggeggio dotato di USB-C a salire lo colleghi e funziona, quindi hai veramente una postazione di una flessibilità pazzesca. Per chi è abituato a cambiare computer o ad avere più computer e magari vuole creare una bella postazione che sia appunto versatile, questa soluzione è fantastica. Io finora non avevo mai visto una praticità veramente a questi livelli. Tra le altre cose, CalDigit come sempre ha un occhio di riguardo per il mondo Apple in particolare, infatti hanno realizzato, anzi è in corso di realizzazione nel momento in cui parlo, ma dovrebbe uscire a breve, addirittura un driver specifico per il vecchio Apple Super Drive. Ora, non è che sia importante perché ad oggi chi lo deve utilizzare, già si utilizzano poco i CD, i DVD, ma poi oltretutto ci sono molti modelli che sono più interessanti se proprio ti serve, non so, un masterizzatore a DVD. Però di base è interessante il fatto che abbiano realizzato un driver apposito per farlo funzionare perché altrimenti sugli altri dock o sugli altri prodotti simili non funzionerebbe quello lì. Così come c'è un'app specifica per macOS, non la fanno per Windows seppure il dock funzioni, come vi ho detto benissimo anche su Windows, ma c'è quest'app che vi consente di sconnettere in un colpo solo tutte le periferiche collegate sul dock, quindi se voi lo avete sulla scrivania e avete il portatile che volete portare via non dovete stare lì a scollegare uno a uno, magari quattro, cinque, sei dischi e altre robe, semplicemente premete il puzzantino sulla menu bar, lì che si posiziona l'applicazione, togliete tutto in un colpo e siete pronti per staccare il portatile, tutto grazie a questa attenzione che vi dicevo di Caldigit al mondo Apple. Insomma, un dock fantastico, veramente non pensavo si potesse arrivare a questo livello, fatico, in passato non ho messo facilmente cinque stelle a un prodotto, ma su questo le metto proprio senza riserva per quanto mi riguarda. Che poi non significa che non abbia aspetti negativi, perché ce n'è uno che hanno tutti i dock in assoluto, cioè il cavo, danno dei cavi di 80 cm in media, così come è questo cavo, che voi spiegatemi come fate ad utilizzarlo. Cioè in realtà sì, cioè in una particolare condizione riesci anche ad adoperarlo, però stai sempre un po' con la paura. Ora, per carità, sono cavi costosi, non lo metto in dubbio, infatti se voi provate a comprare uno di questi cavi da due metri, in media spendete una sessantina di euro. Lo fa anche CalDigit, vi lascio i link in descrizione, lo fa anche Cable Matters, che è un'azienda che a me piace come lavora, costa poco poco di meno però alla fine del CalDigit, quindi conviene prendere il CalDigit, secondo me, se comprate questo dock in particolare. Però dicevo, 80 cm, 80 cm, è veramente poco per gestire in maniera comoda i cavi, mi dispiace questa cosa, perché poi alla fine lo devi comprare, cioè io alla fine lo comprerò il cavo più lungo, perché è fatico, altrimenti, a lavorare con questo qui. Però il dock davvero eccezionale, lui costa più o meno 330 euro, se ricordo bene, arriverà però, ancora non è disponibile in Europa, arriverà a inizio del prossimo mese, quindi a maggio. Ovviamente poi ve lo farò sapere nei nostri canali Telegram delle sagge offerte, ma il prezzo è in linea con quello degli altri prodotti, alcuni costano anche di più, ma lui è migliore su tutto numero di porte, stabilità, qualità, veramente ogni cosa, e soprattutto questa cosa della compatibilità universale che è veramente, veramente una svolta. Insomma, spero che vi sia piaciuto, mi dispiace il fatto che non lo possiate comprare oggi, perché ci sono rimasto male anch'io, non avevo notato quando me l'hanno mandato che non era ancora arrivato in vendita in Europa, quindi non vi posso dire subito compratelo perché è fantastico, ma a breve sicuramente potrete farlo, quindi seguiteci sui nostri canali Telegram delle sagge offerte, la finisco qui. Alla prossima, ciao!